Buongiorno al popolo di YouTube. Nazionale, prima estratto 16 ovviamente, io ho dato il 61, ma il mio buscolo, buongiorno, col mio buscolo c'è l'invertibile ovviamente su ruota unica, qui parliamo sempre e esclusivamente di ruota unica dei miei due GOL, una ruota ed è fondamentale perché così non si sperperano denari amici miei, per questa sera sabato, come vedete ogni sabato siamo andati sempre all'incasso e penso che anche questa sera vorremmo andare al super l'incasso, ovviamente qui, quindi c'è la giocata dell'ambo che non perdona, ma la vincita più bella è stata se è 30 anni regalata da me in diretta, su ruota Cagliari, quindi poi ovviamente sapete già devo andare a vedere tutti questi secondi, quindi qua abbiamo beccato l'ambo secco a secondo colpo su ruota, anzi a prima colpo che l'ho dato ieri, ma con il numero d'oro, quindi ogni euro sono 690 euro, chi ce ne ha messo due? Sono 1.380, chi ne ha messi trenti, sono 2.000 euro, ma stiamo parlando di beccare un'ambo secco a colpo su ruota con il numero d'oro, io già ho preparato un'altra chicca come questa qua, sempre a frutinamento ovviamente, su ruota unica, va bene? Da Leone è tutto a questa sera, ciao!